Guardi, se la domanda è il Presidente Conte sta cercando responsabili, parliamoci francamente, l'ho già dichiarato. Il Presidente Conte lavora al Governo, è passato, ha chiesto la fiducia in Parlamento con un determinato assetto e determinate forze e gruppi, quindi non sarebbe assolutamente improprio che io mi cercassi altre maggioranze. Il fatto stesso che vi ho preannunciato, ho chiesto io di fare delle comunicazioni al Parlamento, significa che sono per una gestione assolutamente lineare e trasparente di qualsiasi passaggio e il Parlamento è la sede più lineare, più trasparente con cui confrontarsi, perché siedono i parlamentari che sono i rappresentanti dei cittadini, quindi si parla in Parlamento, in sede ufficiale, ci si assume sempre la responsabilità delle parole che si pronunciano e delle decisioni che si assumono. Grazie, grazie.